Filippo Tranquilli, l'istrionico, il mattatore, il colto e sensibile Filippo ci ha lasciati. Un male spietato contro il quale lottava da oltre un anno ce lo ha portato via nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale Santa Croce dove era stato portato ieri mattina dopo un peggioramento delle sue condizioni. Filippo Tranquilli, attore di teatro, di cinema, sia in vernacolo, per anni colonna portante della compagnia dialettale Icumediante che in lingua italiana era un fine dicitore di racconti e storie affascinanti legate alla città come l'ultima che aveva interpretato prima di aggravarsi, l'alchimista. Memorabile la sua capacità di travestimento passando da Bacco al genio della lampada ad un nobile settecentesco, ma a Filippo bastava un lenzuolo bianco per entrare in una parte. È stato capace di raccogliere diverse centinaia di persone con un moccolo in mano a tardasera in estate sotto il porticato del teatro solo per sentirlo parlare di storie di paura e di fantasmi. Filippo Tranquilli e la sua sonora roboante grassa risata dopo una sferzante battuta risuonano ancora nelle orecchie di quanti sono stati affabulati dalla sua verva oratoria che spaziava dalla più fine ed approfondita cultura all'espressione dialettale più sguaiata e popolana. Questo era Filippo, un tipo sia da bosco che da riviera, ammaliatore con le parole e dallo sguardo penetrante, un incantatore di anime, capace con una sola battuta di caratterizzare un intero film, il primo della serie Gli Sbancati. Tutti di quel film ci ricordiamo sicuramente tre cose, il titolo che era in dialetto e la sua battuta di cui andava orgogliosamente fiero. Chissà se questo pomeriggio dopo le 14 quando ha chiuso gli occhi e si è trovato faccia a faccia con la morte gli abbia fatto la sua battuta. Probabile perché Filippo era così, un po' dissacrante e alle volte provocatore, come una della quale ci vogliamo espressamente ricordare il vero voulon come quello interpretato per la carnevalesca. Sì, sì, è vero, l'anno scorso è stato il vice sindaco del carnevale e lui era felicissimo di questo e io con lui. Quindi sì, assolutamente lui era un poliedrico, amava la cultura in tutti i suoi aspetti, l'arte in tutti i suoi aspetti, dalla lirica al teatro, il carnevale, sembrava fosse una roccia. Questa era l'idea che sempre mi ha dato. Ma forse di tutte le sue interpretazioni quella alla quale teneva di più e dalla quale aveva dovuto per forza abdicare quest'anno è quella alla quale chiunque lo conosca lo lega indissolubilmente. Il geppetto nella pancia della balena del paese dei balocchi che accoglieva e incantava i bambini ininterrottamente dal 2008 e noi vogliamo ricordarlo e salutarlo così, con il moccolo in mano e il suo sorriso disarmante e beffardo. Ciao Filippo, facci luce ovunque tu sia. Grazie.